Salve, sono Gabriele Saletti, della classe terza verità della verità dell'Istituto Pellegrino di Campionale. Oggi vi porterò un aperitivo chiamato di spazio. Sì, perché l'infezione è preparato con 3 cl di gym. 3 cl di giovanni. 2 cl di lime fresco. 2 cl di purea di mirtillo. E per finire, 2 cl di aggiungo. 3 cl di giovanni. Per decolazione abbiamo messo un fritto di lime e una busta di zucchero. Per decolazione abbiamo messo un fritto di zucchero.